Buongiorno da FTO Online, borsa sulla parità in questo momento, c'è stata un po' di volatilità in avvio, i prezzi avevano iniziato a seduta sostanzialmente invariati rispetto a venerdì, poi sono scese abbastanza rapidamente, del resto la situazione per quello che riguarda la guerra Russia-Ucraina non sta sicuramente migliorando, sono poi però tornati sui propri passi, come vedete l'indice Fuzzimib è in vista della resistenza data dal 61,8% del ritracciamento del ribasso dal massimo di gennaio, una situazione simile la troviamo anche nel caso del DAX che ha toccato il 61,8% di retracement del ribasso dal massimo di gennaio settimana scorsa per poi fare un passo indietro, però ancora è sostanzialmente abbastanza vicino a quei livelli e la stessa cosa la possiamo vedere anche per l'Eurostoxx 50 che settimana scorsa ha toccato con precisione proprio il 61,8% di retracement del ribasso dal massimo di novembre avviando poi una flessione che sia limitata come vedete a toccare questa curva verde che è la media mobile esponenziale ai 20 giorni, fino a che la media mobile esponenziale ai 20 giorni che passa intorno a 3.890 tiene si può ipotizzare un nuovo test della resistenza toccata settimana scorsa poco sopra i 4.000 punti, in caso di rottura di quei livelli ci sarebbe uno spazio di crescita di 200 punti circa, ovviamente quello che accade all'Eurostoxx sarà significativo anche per capire l'andamento del Futsimib e del DAX. Andiamo a guardare il Nasdaq 100, anche qui cambia l'area geografica ma non cambia il quadro tecnico, 61,8% di retracement del ribasso dai massimi di novembre, resistenza intorno a 15,250 che per adesso non è stata superata, al tempo stesso la flessione che abbiamo visto non ha cancellato le possibilità di assistere a un nuovo test di quella resistenza. In ultimo guardiamo, parlando sempre di tracciamenti, Telecom Italia che oggi è in deciso calo e anche qui abbiamo visto che il rialzo partito dal minimo di inizio marzo si è fermato sul 50% retracement della discesa che era partita dai massimi di novembre. Diminuiscono nel caso di Telecom le possibilità che vada avanti l'OPA di KKR, si propende probabilmente per una soluzione interna e ovviamente il titolo perde di appeal speculativo e non è detto che questo ribasso di oggi in area 0,30 rappresenti la fine della fase discendente, solo se dovessero tornare sopra i massimi di settimana scorsa vorrebbe dire che il mercato ha cambiato idea. Abbiamo parlato diffusamente dei ritracciamenti, volevo chiarire un paio di aspetti che secondo me sono importanti, questo è il nostro Fuzzi All Share, guardo questo invece del Fuzzi Mibe perché ha una banca dati storica più ampia, volevo farvi vedere che anche nel caso del Fuzzi All Share c'è stato il test preciso del 61,8% retracement della discesa dal massimo del 5 gennaio prima che il rialzo si arrestasse. Qualcuno si starà domandando cosa sono e come mai funzionano questi ritracciamenti? Su che cosa sia non abbiamo parlato molte volte, ve lo ricordo solo brevemente, quando c'è un movimento di tendenza in una direzione o un'altra, nel caso dello share quello che stavamo guardando è il rimbalzo dopo una fase ribassista, quindi quando ho una fase ribassista nel momento in cui questa termina posso ipotizzare che la fase successiva possa essere o una semplice correzione, quindi sapete bene che le tendenze si sviluppano con un'alternanza di movimenti in un senso e in una direzione o nell'altra fino a che ovviamente il rimbalzo dopo una fase di discesa non va a superare i massimi precedenti, vuol dire che rimaniamo in una tendenza ribassista, quando accade invece che il rimbalzo va a superare i massimi precedenti, vuol dire che qualcosa è cambiato e si può iniziare ad ipotizzare un'inversione. Per capire quanto sia probabile uno scenario proseguimento del ribasso piuttosto che tentativo di inversione si usano proprio i ritracciamenti Fibonacci che scompongono la ampiezza del movimento, quindi solo la parte di movimento relativa al prezzo in base a determinate percentuali che sono ricavate dalla successione dei Fibonacci. Di solito si utilizzano determinati livelli che sono il 23,6%, il 38,2%, il 50%, il 61,8% che abbiamo visto nei grafici precedenti e spesso si guarda anche al 78,6%. C'è anche un livello che utilizzo che a volte torna utile che è l'88,6% di ritorno, ma che non tutti i software mettono a disposizione quando si fa il calco dei ritracciamenti. Quindi quando io ho un movimento di una forte tendenza, come abbiamo visto nel caso dei mercati azionari europei e americani dai massimi o di novembre o di gennaio, in alcuni casi il massimo più alto è stato quello di novembre, in altri quello di gennaio, nel momento in cui inizia un rimbalzo inizio a valutare quanto sia la portata di questo rimbalzo. Se i prezzi iniziano a superare il primo dei livelli che è il 23,6%, posso ipotizzare che si arrivi sul gradino successivo che è il 38,2%. Quando viene superato anche questo mi posso immaginare il raggiungimento del 50%, man mano che il movimento di rimbalzo prosegue aumentano le possibilità di un suo proseguimento fino a che al di sopra del 61,8% inizio a essere ragionevolmente sicuro che i prezzi potranno poi ritornare anche fino sul 100% di ritracciamento, quindi sull'origine del movimento precedente. È vero che poi ci sarà da superare anche il 78,6% e l'88,6% però sostanzialmente diciamo che sopra il 61,8% mi posso iniziare ad immaginare che il movimento che si sta realizzando sia destinato a durare nel tempo. È evidente che è vero anche il contrario, ovvero che se il movimento si ferma sul 61,8% e poi si riprende a scendere, è molto elevato il rischio che quello al quale stiamo assistendo la fase di ripresa sia stato solo un rimbalzo temporaneo e che i prezzi tornino nuovamente a scendere. Fino a qui tutto abbastanza standard, questo tipo di teoria la trovate spiegata su tutti i libri di testo. Il perché questi ritracciamenti funzionino? A questa domanda vengono date due tipi di interpretazioni, una è a favore dell'utilizzo di questo strumento che ci dice sostanzialmente che prendendo come riferimento non l'individualità del singolo operatore ma la massa, quindi tutto quello che pensano i diversi investitori nel loro complesso fa in modo che tendenzialmente ci si trovi d'accordo in media nel momento in cui c'è una fase di tendenza una direzione o nell'altra a considerare istintivamente questi livelli, queste percentuali particolari che sono appunto derivate dalla successione dei Fibonacci, dei punti importanti, se andiamo a guardare ad esempio quello che è successo in questo rialzo, nella successiva fase di ripiegamento, prendiamo il rialzo, prendiamo il ripiegamento e vedete che anche in questo caso siamo arrivati praticamente sul 61,8% prima che il mercato decidesse che era il momento di ripartire, se fossimo scesi sotto al 61,8% ci sarebbe stato un rischio elevato di vedere e proseguire il ribasso, in questo caso nel rialzo successivo il ribasso era andato al di sotto del 61,8%, però se andiamo a introdurre il 78,6% vedete che ha funzionato quello in questo caso come supporto e da lì siamo ripartiti nuovamente al rialzo. Quindi praticamente queste percentuali vengono spesso riconosciute come livelli importanti o di supporto o di resistenza. Vi ripeto, una delle due ipotesi che si possono fare è che in media istintivamente il mercato li riconosca come dei punti cruciali sul grafico, l'altra interpretazione, quella data dagli scettici nei confronti di questo tipo di strumento, è che siccome tutti i software di analisi tecnica che vengono ormai ampiamente utilizzati da tutti gli operatori riportano i ritracciamenti come standard, tutti siamo più o meno abituati ad utilizzarli per valutare la presenza di supporto e resistenza e praticamente nel momento in cui il mercato si avvicina al livello che tutti i software indicano perché ovviamente il 50% di ritorno indipendentemente dal programma che si sta utilizzando sarà sempre indicato sugli stessi livelli da tutti i programmi, nel momento in cui il mercato si avvicina su quei livelli tutti gli operatori sanno che quella è una quota importante e di conseguenza il mercato tenderà a rallentare o addirittura a invertire la sua tendenza nel momento in cui i prezzi arrivano su quel livello importante. Vi faccio notare che qui sul grafico del nostro Fuzio Share tutti i ritracciamenti che sono stati indicati a partire da 38,2 sono stati significativi, qui il 9 e il 10 di marzo sono stati toccati e poi c'è stata una flessione, il 23 di marzo il prezzo si è arrivato sul 50% e c'è stata una brusca fase dietro al front e la stessa cosa è successa il 29 marzo col test 61,8. L'obiezione che questo tipo di strumento funzioni solo perché è utilizzato da tutti secondo me non è corretta e vi dimostro subito il perché, un approfondimento di questo tipo di ragionamento lo trovate sul nostro sito FT Online dove ho pubblicato un editoriale proprio nel fine settimana riguardo a questo, vedete Fuzimib 0 Fibonacci 1, se avete voglia andatevelo a leggere perché è spiegato in dettaglio quello che vi sto dicendo adesso nel video. però sostanzialmente se noi prendiamo il nostro Fuzio Share che vi ho detto che rispetto al Fuzimib ha una serie storica più ampia e torniamo indietro nel tempo, andiamo a guardare quello che è successo negli anni in cui ancora il personal computer non era molto utilizzato, anzi non era utilizzato per niente e quindi questa idea che tutti avessero a disposizione degli stessi software per guardare il mercato non si applica assolutamente, ebbene se io vado a guardare questi periodi, quindi ad esempio prendiamo questo rialzo che c'è stato dal minimo del 1982 al massimo del maggio del 1986 e poi il successivo ritracciamento che ci aveva riportato su un minimo a febbraio del 1988, quindi ripeto anni in cui sicuramente non si può pensare che nei mercati ci fosse un utilizzo diffuso del personal computer, vedete anche in quel caso la fase di correzione, questa che si è sviluppata tra l'86 e l'inizio del 1988 si è fermata esattamente sul 61,8% di ritracciamento. Ma anche se andiamo a prendere il ribasso precedente, quindi invece di guardare questo guardiamo quello che si era realizzato precedentemente, quindi da questo minimo del 78 al minimo del 82 con l'intermezzo del rialzo fino al massimo del 1981, prendiamo questa fase di ritracciamento e vedete che ancora una volta i prezzi sono arrivati esattamente sul 61,8% prima di avviare, quindi hanno corretto il 61,8% prima di intraprendere nuovamente la fase di rimbalzo. e praticamente diciamo che questa è una dimostrazione del fatto che anche in periodi in cui i mercati venivano regolati da ragionamenti che andavano completamente al di fuori dall'utilizzo massificato della tecnologia, i movimenti lo stesso venivano guidati dai ritracciamenti fibonacci, vedete dal minimo del 92 al massimo del 94 c'è stato un rialzo, la successiva fase di correzione dove si è fermata a dicembre del 95 esattamente sul 61,8% di retracement del movimento precedente. Di esempi in questo modo se ne possono fare tantissimi non solo sul mercato italiano ma ovviamente anche sugli altri mercati. Questo penso che sia utile per invogliarvi ancora di più a studiare questo tipo di strumento e ad utilizzarlo dal momento che ci sono i fondamenti per dire che sostanzialmente funziona. Cosa andiamo a guardare oggi? Fatta questa lunga premessa andiamo a concentrarci su quelli che sono dei titoli che ho riportato in una tabella pubblicata nel fine settimana sulla nostra pagina Facebook, ovvero i 10 titoli più vicini ai massimi del mese, per mese si intende le ultime 21 sedute, 300 più liquidi di piazza Fari e per più liquidi si intende quelli che hanno la media settimanale contro valori scambiati più elevata. Il percentuale che trovate nella tabella meno 0,15% è la distanza tra il massimo che è stato raggiunto nelle 21 sedute e il prezzo di chiusura di venerdì, quindi praticamente snammarete gas era molto vicino ai massimi di periodo. Nella tabella di fianco ho trovato invece i titoli più vicini ai minimi delle ultime 21 sedute, quindi quelli nella prima parte, nei 10 più vicini ai massimi sono quelli che sostanzialmente stanno dimostrando la maggiore forza, quegli altri invece nella seconda tabella sono quelli che potrebbero essere i più deboli, ad esempio compaiono titoli poco volati, vi faccio l'esempio di snammarete gas che compare sia nella tabella relativa ai 10 più vicini ai massimi, ma anche nella tabella dei 10 più vicini ai minimi, semplicemente perché essendo un titolo poco volatile è praticamente sui massimi e è al 10% di distanza dai minimi, quindi questo ovviamente per dire che snamm non è un titolo ambiguo ma semplicemente data la sua bassa volatilità è presente in entrambi le tabelle, ma è evidente che sia forte perché è molto lontano dai minimi e molto vicino ai massimi. Insieme andremo a guardare questi 5 titoli, IGD, IREN, Italgas, Innovatec e Diazorin, gli altri invece Mediobanca, Prisma, Snamm, Terna e Unipol andremo a guardare nella versione del video riservata agli utenti Patreon, per poterla visualizzare dovete sponsorizzarci e seguirci su Patreon.com e andremo anche a guardare l'Atlantia per la quale mi è stata chiesta un'analisi da parte di un nostro utente, iniziamo proprio con l'Atlantia che vedete si sta muovendo all'interno di questo canale crescente, dai minimi di marzo del 2020, è possibile che i prezzi continuino il rialzo verso il lato alto di questo canale, c'è stato recentemente il superamento di questa importante area di resistenza, molto spesso in questa occasione assistiamo ad un return move, quindi non mi stupirei se i prezzi prima di tornare a salire tornassero in area 18€, del resto come vedete l'RSI era salito decisamente in ipercomprato, quindi una flessione ci sta, ma non penso che ci sia il rischio di tornare al di sotto dei 18€, mentre c'è invece la possibilità di tornare in area 21 sul lato alto del canale che ho disegnato, i massimi che sono stati toccati negli ultimi giorni sono proprio sul 50% di retracement della discesa che c'è stata dai massimi del maggio del 2018, quindi area 19 è una resistenza importante, si può pensare di comprare o in caso di ritorno in area 18€ o più prudentemente sopra area 19 con target intorno ai 21€. passiamo invece adesso ai titoli che vi ho detto che fanno parte della lista dei più vicini ai massimi dell'ultimo mese, iniziamo con IGD, è in una situazione abbastanza interessante, sta cercando di confermare la rottura di questa resistenza in area 4,40 che già era stata approcciata nella parte finale del mese di febbraio, se ci fosse la rottura decisa di area 4,40-4,50 avremmo un'ottima possibilità di crescita, questa fase laterale che ampia circa 1,05€ potrebbe venire ribaltata verso l'alto, quindi con un target verso 5,50€, forse ancora non è il momento di comprare, aspetterei una rottura confermata in chiusura di seduta di area 4,50€, ma è un titolo sicuramente da mettere nel mirino. Per quello che riguarda IREN siamo in una fase iniziale di rimbalzo dopo questa discesa, per il momento con i massimi di venerdì che sono stati con una buona accelerazione rialzista siamo arrivati in vista del 50% retracement, se ci fosse una chiusura di seduta al di sopra di area 2,50€ potremmo iniziare ad ipotizzare la rottura anche di area 2,60€ ed eventualmente il raggiungimento di questa forte resistenza orizzontale che è posizionata intorno a 2,75€, quindi attenzione fino a che non siamo al di sopra di 2,49€, 2,50€ a non anticipare i segnali. Per quello che riguarda i tal gas, qui c'è già stata la rottura della linea di tendenza che parte dal massimo di inizio anno, quindi un segnale di forza è già stato inviato, siamo arrivati con i massimi di venerdì, ritiriamo fuori il nostro 78,6%, vedete siamo arrivati esattamente sul 78,6% retracement, a questo punto visto che qui i prezzi sono fermati prudentemente aspetterei la rottura in chiusura di seduta di 5,88€ per comprare con un target sul massimo di gennaio a 6,10€. Per quello che riguarda il Novatec, anche qui abbiamo già avuto dei segnali di forza, tra l'altro la rottura di questo rettangolo direi che è una conferma della positività del momento, i prezzi si sono portati di sopra del lato alto del rettangolo proprio venerdì, a questo punto direi che il ritorno sul massimo di febbraio a 2,53€ è del tutto possibile, inizierei a aver paura di un'evoluzione negativa solo se i prezzi dovessero portarsi in chiusura di seduta di sotto di 2,10€. Infine Diasorin che sta disegnando questo canale, in realtà i prezzi nell'ultima seduta della settimana scorsa hanno accelerato al di sopra del lato alto del canale, quindi il rischio che questo sia un flag correttivo si sta allontanando, vediamo come siamo messi in termini di medie mobili, preferirei vederlo al di sopra non solo della 50 ma anche della 100 giorni, quindi la 50 è già stata abbondantemente superata e la 100 giorni è stata toccata venerdì. Se ci fosse una conferma in chiusura di seduta sopra area 145-146 penso che sarebbe lecito iniziare ad ipotizzare il test di 150 ma anche di area 160, quindi siamo proprio al limite di quello che potrebbe essere un segnale di forza interessante. Attenzione invece in caso di rientro all'interno del canale perché, ripeto, questo canale per adesso fino a venerdì aveva caratteristiche correttive, cioè poteva essere un flag della precedente tendenza di bassista, perciò se dovesse rientrare all'interno del canale sicuramente non insisterei con operazioni a rialzo. Vi ringrazio per l'attenzione, vi invito come sempre a commentare i video, a lasciarci suggerimenti su quelli che sono i titoli che volete vedere, anche al limite magari iscrivendoci direttamente sulla nostra pagina Facebook, la pagina DFT Online e vi do appuntamento a domani con il nostro consueto commento giornaliero.